Buonasera a tutti, bentornati qui sul mio canale, 1936 solo io, ancora con voi. Questa sera video inedito, non parliamo di calcio, parliamo del mio canale. Io voglio ringraziare tutti quelli che si sono iscritti attualmente al momento al mio canale, siamo 550 persone, vi ringrazio uno a uno, grazie di cuore, perché mai avrei pensato a un raggiungimento di questo piccolo obiettivo. Quindi sono contento e sono orgoglioso di ciò, dei miei video che faccio, che i miei video vi piacciono, sono contento che venite a commentare, che siete partecipi al canale, quindi non posso far altro che ringraziarvi e per questo, questa sera, come vi avevo promesso già in un altro video, vi voglio fare un appello. Ragazzi, se arriviamo a 1000 iscritti nel prossimo mese, entro il prossimo mese, io vi farò un regalo, farò un'estrazione live, una sera, un video live, dove estrarrò un nome fra tutti quelli iscritti al mio canale e il vincitore vincerà, niente po' di meno che una maglia originale del Pescara. Questa è la maglia originale 2005-2006, indossata da Davide Matteini. Ragazzi, l'attaccante del Pescara Matteini, che quell'anno fece un bel po' di gol, se vi ricordate l'esultanza ad Avellino, dove si trombola la maglia in pratica. Ragazzi, maglia originale, guardate, questa è la toppa lega calcio, vi faccio vedere, la toppa dell'epoca, la maglia è indossata, originale in maniche lunghe, rara, io ve la do, volentieri, a raggiungimento, ripeto, di 1000 iscritti entro il prossimo mese, voglio vedere se ce la facciamo, estrarrò una persona iscritta al mio canale, farò un'estrazione live e il vincitore avrà diritto a ricevere la maglia. Se fuori zona gliela spedisco io a casa, non c'è problema, se è di Pescara gliela posso consegnare personalmente e faremo un video insieme. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale il più possibile, se ne stacca pure il telefono, iscrivetevi al canale, quindi fate iscrivere i vostri amici il più possibile, prima arriviamo a 1000 iscritti e prima avete possibilità di vincere la maglia che vi ho fatto vedere. Io vi ringrazio ancora, quindi vi invito a iscrivervi al canale, iscrivetevi al canale il prima possibile, ci vediamo nei prossimi video e sempre Forza Pescara! Ciao a tutti raga, buona serata!